Musica Voglio partire da una lettera. Caro papà, non so se leggerai mai quello che sto per scriverti, non so se ne avrai la forza dopo una lunga giornata di lavoro, ma scrivere in fondo è come tirare un solco e tu ne hai tirati tanti nella tua vita, tutti belli dritti, meglio di qualsiasi trattore guidato da un GPS. So di non essere un figlio perfetto, anzi ho fatto dell'imperfezione il mio giorno, non mi sono mai laureato, non sono mai stato a casa, sempre in giro a inseguire dei sogni, capricci di una gioventù diversa dalla tua. Mai un punto di vista in comune, tutto differente. Più viaggiavo e più mi allontanavo dalle tue idee, più studiavo e più mi avvicinavo a quella terra che tu e mamma mi chiedevate di lasciare. È un lavoro troppo sacrificato, mi avete sempre detto, e che diranno le persone se sentono che fai l'agricoltore? Nessuna ragazza si avvicinerà a te, trovati un posto, così potrai sposarti, avere dei figli ed essere felice. D'altronde, voi agricoltori cosa avete ricevuto da questa terra dopo tanti sacrifici? Vi hanno spinto a produrre di più affinché potesse stare insieme di meno, a produrre prodotti freschi affinché deperisse la vostra dignità a causa di prezzi troppo bassi e di tempi troppo stretti. Sai, quando ero bambino mi vergognavo quando mi chiedevano che lavoro facessi, ma oggi voglio dire al mondo che il tuo è uno dei lavori più grandi che ci siano. Quello che ho imparato in agricoltura lo devo a te. Forse non saprò ancora accarezzare una pianta come fai tu, ma stai certo che ho imparato ad amarla. Spero che un giorno amerai anche tu il mio sogno. Si chiama WhatsApp e forse inconsapevolmente me lo hai donato tu. Mentre ti osservavo nasceva dentro di me il sogno di vedere tanti giovani che si innamorano della terra, stando insieme in una serra dove invece di coltivare piante si coltivano relazioni e tutti insieme essere felici perché finalmente è stato dato loro ascolto e dignità. Questa è la lettera che tu hai scritto a tuo padre per spiegargli e per raccontargli il tuo sogno. Giuseppe Savino, agricoltore, giovane agricoltore. Raccontalo anche a noi che cos'è WhatsApp. La lettera lo spiega abbastanza bene. A un certo punto mi sono fermato perché avevo trovato incomprensione in famiglia. Per realizzare un sogno ho deciso di sacrificare il loro di sogno che era quello di vedermi sistemato con un posto fisso. Ho lasciato quel posto fisso dopo sei anni, dopo che loro avevano semplicemente un po' messo a tacere tutta, come dire, un po' la tristezza nei miei confronti perché non avevo fatto i passi classici che la vita impone per certi aspetti, quindi la laurea, la sistemazione lavorativa. Quel sacrificio diventa generativo, fa nascere qualcos'altro, un sogno che però non incontra una consapevolezza da parte dei genitori. Loro in genere amano vedere i figli sistemati, ma molte volte i figli dovranno chiedersi se quella sistemazione corrisponde alla loro felicità. Tu a un certo punto ti sei chiesto voglio invecchiare tranquillo o felice? È lì che ti si è accesa un po' la lampadina. Certo, perché le parole sono importanti, creano. Io ho sempre avuto, come dire, un'attenzione particolare, anche perché mi piace, vengo dal liceo classico, quindi me lo hanno insegnato. Le parole creano e la tranquillità e la felicità sono due cose fosse opposte. Chi è felice non è tranquillo, chi è felice è in movimento, in corsa o si sta spostando verso il suo sogno. Chi invece è tranquillo, forse quel sogno lo ha abbandonato. Tutto questo, tutta questa tua visione della vita, se vuoi anche un po' romantica, ti ha portato a costruire qualcosa però di estremamente innovativo, appunto WhatsApp. WhatsApp che è il primo hub rurale in Puglia. Allora cerchiamo di spiegare, anche per chi magari non ha dimestichezza con questa terminologia 2.0, che cos'è WhatsApp. Siete una comunità, un gruppo di persone, di giovanissimi, che ognuno con le proprie competenze cerca, insomma, di portare il proprio. E avete creato una vera e propria rete di contadini 2.0, possiamo dire, di giovani agricoltori che ereditano il lavoro dei loro padri o che ritornano alla terra. Che cosa fate, che cosa succede in questa comunità? Ok, abbiamo, innanzitutto stiamo insieme per amore, per amore della terra perché riteniamo che questa sia una terra giusta. Una terra non dà i Natali per caso, ci dà la vita perché noi quella vita possiamo impiegarla nella sua crescita. Andiamo nelle case degli agricoltori, questo non l'ha mai fatto nessuno, quindi per la prima volta andiamo ad ascoltarli. Siamo giovani, come hai detto tu, che hanno talenti e che decidono di condividerli, di non trattenerli. Siete un piccolo esercito perché ci sono contadini, creativi, pubblicitari, fotografi, architetti, quindi vi muovete come se fosse, diciamo, un gruppo che fa osservazione sul mondo agricolo. Quindi andate proprio fisicamente nelle case dei contadini e chiedete, magari anche cercate di capire le loro istanze, di cosa hanno bisogno, no? Certo, ogni contadino ci apre casa e invita i venti confinanti, un massimo di venti perché a volte, come dire, li aiutiamo anche noi qualora non dovesse raggiungere quel numero. I venti confinanti si trovano accolti in uno spazio arredato nella bellezza, tutto ha, come dire, un motivo. Ogni cosa viene studiata per far vivere loro un'esperienza di accoglienza unica. Questo è il vostro format che si chiama Contadinner, che sono proprio queste cene tra contadini, quindi appunto chiedete ai contadini di aprire le loro case e poi però queste case restano aperte non solo a questo gruppo di più contadini, ma anche a persone esterne che vogliono provare una cena diversa, magari, no? Comunque un elemento di socializzazione anche. Sì, perché il primo anno appena abbiamo iniziato a condividere foto, molti ci chiedevano, ma non è possibile venire a gustare questi prodotti? Perché poi, che cosa succede? Nel momento in cui ognuno, il contadino invita i confinanti, i confinanti per una questione di riprova sociale, per una questione di far bella figura, portano il meglio. Abbiamo gustato cibi esclusivi, buonissimi, e da lì c'è venuta l'idea per rendere il progetto almeno un po' sostenibile dal punto di vista, diciamo, economico. Condividere il cibo con altre 20-30 persone che vivono un'esperienza unica. Sei mai stato a cena a casa di un contadino? Hai mai ascoltato la sua storia di vita? Hai mai contemporaneamente assaggiato quello che produce? Bene, questa è la cena che fa per te. Quindi doppio servizio, perché date alle persone estrane al mondo dell'agricoltura, come me, per esempio la possibilità di andare ad una cena diversa, di conoscere persone diverse, assaporare prodotti naturali, freschi, tipici della nostra terra, contemporaneamente i contadini presenti a quella cena entreranno in relazione tra di loro e parleranno del loro mondo, di quello che serve magari per migliorare, verranno fuori delle idee nuove, no? La relazione è quello che conta in tutto questo, no? Sì, noi abbiamo inteso facilitare le relazioni. Siamo in una era, in una società dove siamo tutti connessi, ma siamo poco in relazione. C'è bisogno di figure nuove che animino, creino ponti tra le persone, perché non siamo più abituati a farlo. Alla fine quello che ci rimarrà sarà sempre una relazione. Voi avete portato in qualche modo, possiamo dire, la cultura in campagna anche, no? La cultura, la socialità, cioè elementi che normalmente nella visione della vita di un agricoltore non esistono, perché l'agricoltore uno se lo immagina a Chino sulla propria terra, completamente estraneo anche, diciamo, tu ce l'hai anche spiegato, molte volte anche i vicini, i confinanti non si conoscono, invece voi avete, come dire, rivoluzionato questo mondo dell'agricoltura, portando alla relazione, portando appunto motivi e momenti di socializzazione e portando anche la cultura, perché oltre alle contadiner, queste cene appunto itineranti che ci stavi raccontando, c'è un altro progetto molto interessante, sempre fatto da voi, dal team di WhatsApp, che è il famoso anfiteatro del grano. In piena campagna, qui in provincia delle campagne di Foggia, avete realizzato questo teatro, questo anfiteatro di paglia a cielo aperto, che io ho visto personalmente, devo dire che è uno spettacolo pazzesco, quindi avete portato il teatro in campagna addirittura. Che cos'è l'anfiteatro del grano? Perché può essere anche questo un elemento di vantaggio per gli agricoltori di oggi? Allora, l'idea dell'anfiteatro nasce da una collaborazione che abbiamo fatto con Teatro Bottega degli Apocrifi di Manfredonia. Loro sono molto bravi nella parte teatrale e noi ce la caviamo nella parte agricola. Una sera un contadino ci disse, io non ho mai ascoltato un violino dal vivo, e da lì nasce, come dire, questa idea. Portiamo il teatro in campagna, Shakespeare ai contadini, portiamo, come dire, la cultura laddove gli agricoltori vivono. Con un pretesto, chiediamo loro di condividere quello che producono. In prima serata loro condivideranno in cibo, dopo seguiranno uno spettacolo culturale. E quindi con un win-win da parte di tutti. Gli agricoltori condividono il cibo in una maniera anche qui nuova. Hai mai vissuto un aperitivo ai piedi di un vigneto, con un pianoforte dal vivo? Hai mai vissuto un momento di cultura in agricoltura? E poi disegnando un territorio. Abbiamo disegnato la tomba della Medusa. Su quell'evento abbiamo avuto quasi 200.000 interazioni. Vuol dire che abbiamo creato una leva molto importante su una tomba che non conosceva nessuno, per certi aspetti. Si può disegnare un territorio, raccontare delle storie, in una che definiamo un'evoluzione delle sagre. Se tu vai a una sagra non sai che cosa mangi. È tutto massa, è tutto veloce. A Shakespeare ai contadini è tutto il contrario. Incontri i contadini, rallenti la tua giornata, fruisci cultura, vivi un'esperienza e torni a casa arricchito. E continuiamo a parlare di agricoltura, continuiamo a parlare di sogni, di cultura, con Giuseppe Savino, giovane agricoltore, fondatore di WhatsApp, questo hub rurale, il primo hub rurale in Puglia, che vede coinvolti un team di giovanissimi architetti creativi agricoltori, contadini 2.0, che stanno rivoluzionando un po' il sistema dell'agricoltura, partendo dal basso, partendo dai sogni, stranamente. Perché se uno pensa a WhatsApp, di solito pensa a qualcosa di dispregiativo, perché normalmente vai a zappare, si dice a chi non ha voglia di impegnarsi in cose alte. Invece per voi WhatsApp è un invito a coltivare dei sogni, no? Certo, è un invito a coltivare dei sogni e farlo in un settore che finalmente sta avendo dignità. Per la prima volta si parla di agricoltura in televisione, gli chef promuovono il cibo, spero che a breve saranno i contadini a promuoverlo, quindi a salire in cattedra, a diventare docenti, come dire, tra virgolette universitari, e che l'università vada in campagna ad apprendere la lentezza, o meglio, a capire come funziona la vita, perché l'agricoltura spiega in maniera perfetta come funziona la vita. Basterebbe andare un po' in campagna per rendere terapeutico una risoluzione di un problema. Lo facciamo attraverso i sogni, perché sono quelli che in un qualche modo vengono tarpati dai genitori quando i figli vogliono raccontare un'idea di vita diversa. Siamo in un periodo dove le borse crollano, quando succedono queste cose c'è un terrorismo psicologico molto forte. Quando io vado in giro chiedo ai giovani, ma voi avete dei sogni? Pochi alzano la mano. Ed è terribile, perché senza un sogno non si crea nessuna opportunità. Quindi c'è bisogno di stimolare, di dire ai giovani che non è finita. Anzi, in questo momento chi fa riesce a raggiungere prima gli obiettivi, proprio perché pochi ci stanno provando. C'è lo zampino di un incontro speciale però in questa tua visione della vita. C'è lo zampino di una sacerdote che era Don Michele De Paulis. Con Don Michele abbiamo realizzato una parte dei nostri sogni. Con lui abbiamo condiviso un'amicizia nonostante i 60 anni di età di differenza. Con lui abbiamo condiviso la follia di fare le cose. Quando io proponevo a lui un'idea, lui non aveva problemi ad approvarla. La stessa idea proposta a miei amici o anche a persone che, tra virgolette, sono innovative, ti dicevano che non si può fare. Lui è un uomo che ha fatto la storia del nostro territorio, che ci ha lasciato un testamento. Io ho, come dire, l'onore e l'onere di essere l'unica persona citata in questo testamento. Ogni volta che lo rileggo dico, perché ha citato me? Mi faccio questa enorme domanda. Dove una delle frasi più belle è Siate ricchi della felicità degli altri. Possiamo accumulare, l'unica cosa che possiamo accumulare è la felicità. Vedere le persone essere felici. È l'unica cosa che porteremo nell'altra parte. Adesso c'è chi crede, chi non crede, non è un problema. Sicuramente, come dire, porteremo qualcosa. E sicuramente porteremo la bellezza delle relazioni che abbiamo saputo creare. Sicuramente aiuterete tanti ragazzi a non fare le valigie, ma a restare nella propria terra, anche a tornare per chi è andato via. Custodire la terra è un atto di evangelizzazione? È il più bell'atto di evangelizzazione, perché duemila anni fa Gesù utilizzava il linguaggio della terra per far comprendere la vita. Custodirla significa portare ancora più in là un messaggio. Laddove la terra diventa patria di nessuno, succede che viene meno lo spirito e la bellezza della vita. Quindi dobbiamo fare in modo, in un'epoca dove le aree interne si stanno spopolando, dove i giovani stanno partendo per andare a prestare lavoro poco dignitoso in altri luoghi e territori. Dobbiamo fare in modo che la terra continui ad essere ancora un'opportunità. Non è facile, assolutamente. Però è possibile. La domanda adesso mi viene spontanea, nel senso che è tutto bellissimo quello che tu stai raccontando. Sono bellissimi i progetti che voi avete messo in campo. Queste cene itineranti, l'incontro tra i giovani contadini, anche meno giovani, e persone esterne, strane al mondo dell'agricoltura, il teatro del grano, questa bellissima esperienza e questa bellissima idea appunto di portare il teatro in campagna. Ma sono sostenibili questa tua idea, questa vostra idea di agricoltura? È sostenibile secondo te economicamente parlando? Sì, perché lo stiamo sperimentando. All'inizio siamo partiti con un'idea di associazione di promozione sociale che è quella appunto nata grazie a Don Michele. Don Michele ci diede i soldi per registrare il marchio di WhatsApp, un uomo di 93 anni che ti diceva a registrare un marchio, come dire, è già storia. Abbiamo inteso metterci del proprio, perché anche grazie all'aiuto di Don Michele lui ci disse non vi capiranno all'inizio, perché quello che volete fare non è comprensibile, fatelo e poi succederà qualcosa. Noi abbiamo iniziato il percorso di WhatsApp, da WhatsApp è nata una cooperativa, questa cooperativa è in grado di offrire servizi evoluti a chi ha bisogno di creare contesti nuovi di relazione. Possiamo farlo a livello ministeriale, siamo stati partner del G7 agricoli, del G7 ambiente, possiamo farlo a livello regionale. Siamo una realtà che è in grado di condividere nuovi percorsi al fine di ascoltare i territori, ascoltare le persone e finalmente di impattare, o meglio, di fare risultati che prima erano poco realizzabili. Quindi la sostenibilità verrà dalla condivisione delle nostre idee. I format che studiamo, che mettiamo in campo, sono tutti format replicabili e sostenibili nei vari territori italiani. Quindi invitiamo anche tutti i contadini che ci stanno seguendo a scoprire questo vostro mondo, un mondo in cui i contadini si raccontano, si incontrano e soprattutto un mondo anche in cui nascono nuove idee e quindi avvengono davvero delle possibilità di crescita in più per un settore immaginato fino a ieri in un certo modo e invece voi siete comunque la dimostrazione che l'agricoltura può andare anche in un'altra direzione. Che significa per te essere contadino oggi? Cioè, problemi, opportunità? Tu come la vedi l'agricoltura in Italia oggi? Che cos'è e che cosa dovrebbe essere? Allora, oggi noi stiamo ereditando un'agricoltura arcaica per molti aspetti. Ci sta venendo incontro un'agricoltura nuova. Ecco, secondo me la virtù che ognuno deve avere è saper armonizzare questi due aspetti. L'agricoltura è tradizione ma l'agricoltura è altresì innovazione. Laddove la tradizione e l'innovazione riescono a coesistere, sicuramente si creerà un percorso nuovo di agricoltura. La dico con un esempio. Oltre che di giovani che vanno a dormire presto per alzarsi, presto la mattina, abbiamo bisogno di nuove figure in agricoltura che non si alzano presto. Io non mi alzo presto la mattina, ma che vanno a dormire a mezzanotte. Solo così l'agricoltura potrà avere i due elementi essenziali, la produzione e la commercializzazione. Laddove in questo momento noi abbiamo un territorio pienamente produttivo, capace di fare altissime produzioni ma incapace di vendere. E il gol si fa quando la palla entra in porta, non prima. Avete anche lanciato una petizione per far diventare le braccia dei contadini, degli agricoltori, patrimonio dell'UNESCO. Tra l'altro questa petizione l'avete lanciata anche in un momento in cui i riflettori erano accesi sulla nostra terra per un evento drammatico che sono state le morti dei 16 braccianti, vittime di caporalato, morte in due incidenti avvenuti a distanza di un giorno l'uno dall'altro. Quindi insomma anche questo è un segnale importante. È il nostro modo di dare un segnale. Non riteniamo, come dire, molte volte tutti dicono bisogna combattere, bisogna combattere. Io penso che oltre a combattere bisogna ispirare. Ispirare qualcuno nel fare del bene. Come potevamo ispirare qualcuno? Semplicemente rivolgendo l'attenzione non sul male ma sul bene. Le mani degli agricoltori, dei braccianti, possono diventare riconoscibili da tutti e quindi possono diventare un patrimonio immateriale. Sono quelle mani che ci portano il cibo a pranzo, a cena, a tavola sostanzialmente. Hanno una dignità quelle mani? Ecco, abbiamo messo su questa petizione ad agosto. Questa petizione ha raggiunto 26 mila firme circa. Stiamo aspettando un incontro con il Ministro dell'Agricoltura per sensibilizzare ancora di più le persone su questa petizione. Pensiamo che un modo nuovo di intendere la dignità delle persone sia fondamentale. Non solo combattere ma anche seminare e ispirare. Grazie Giuseppe, grazie per averci raccontato questa tua visione estremamente romantica ma anche innovativa del rapporto dell'uomo con la sua terra perché poi di questo si tratta. Quindi davvero buona fortuna per tutti i vostri progetti. Grazie per essere stato qui e grazie per aver risposto alle nostre domande. Grazie per aver guardato il video.